Ciao a tutti, benvenuti o bentornati sul mio canale, io sono Silvia e oggi nuovo video. Come al solito vi ricordo che se avete piacere potete anche seguirmi su Instagram, ma soprattutto vi ricordo che è uscito il mio shop, vi lascio tutte le informazioni qui sotto nell'info box. Detto questo, diamoci dentro col video. Il caso di oggi ragazzi non lo conoscevo, me l'avete richiesto voi tramite il Google Docs e come vedete, quando possibile, cerco di accontentarvi. Oggi sono qui per parlarvi del caso di Missy Gruba, una semplice ragazza di 19 anni nata in Texas, ma come al solito, andiamo con ordine. È la notte del 7 aprile del 1994 e ci troviamo nel complesso di appartamenti Holly Park a Darlington in Texas, quando i residenti di uno degli edifici vengono evacuati a causa di un incendio divampato in un appartamento. Quell'incendio ha danneggiato 8 appartamenti, lasciando 20 persone sfollate dalle loro case. Mentre gli inquilini stanno fuori davanti al complesso di appartamenti, notano la mancanza di qualcuno. La 19enne Missy Gruba non è con loro, ma la sua macchina è presente nel parcheggio. Questo vuol dire che dovrebbe essere a casa. Ma come al solito, facciamo un passettino indietro e andiamo con ordine. Missy Gruba nasce il 26 aprile del 1974 a Barlison, un sobborgo di Fort Worth in Texas. La Tony Rand Gruba è patigine. Missy frequenta la Barlison High School, dove suona il corno nella banda musicale della scuola. È membro di una confraternita musicale e tra l'altro frequenta anche parecchi corsi. Anche durante il liceo Missy si dimostra essere una grande lavoratrice e in effetti questa sua abitudine la insegue per tutta la vita. Quindi, durante il liceo fa davvero tante attività e contemporaneamente lavora dalle 20 alle 30 ore a settimana. Missy vuole risparmiare dei soldi per andare al college. È una ragazza molto concentrata e motivata. Quindi, sa quello che vuole fare nel futuro, ma è anche consapevole del fatto che la sua famiglia non ha molti soldi. La ragazza vuole cavarsela da sola e, tra l'altro, è una persona incredibilmente corretta. Insomma, è una di quelle persone sempre pronte a fare la cosa giusta. Frequenta la prima chiesa battista di Barleson con la sua famiglia, ma non è finita qui, perché nel tempo libero Missy ama occuparsi dei bambini. Quindi, molto spesso, fa la babysitter e legge loro la Bibbia. Insomma, abbiamo delineato la vita di Missy, una vita sicuramente impegnativa. Ma com'è questa ragazza? Qual è il suo carattere? Beh, Missy è gentile, generosa, onesta ed è anche un po' ingenua. Di diploma. Nel maggio del 1992 e poi si iscrive all'Università del Texas, ad Arlington, che dista appena mezz'ora da Barleson, ossia da casa sua. Ma Missy vuole trovare la sua indipendenza. Il suo grande sogno è quello di diventare un insegnante di matematica. Insomma, come già vi ho detto, Missy vuole trovare la sua indipendenza. Vuole condurre una vita da adulta. Di conseguenza, non vuole più vivere a casa dei suoi genitori. Ben sì, vuole sistemarsi in una casa tutta sua e avere abbastanza soldi per cavarsela e per vivere bene. Quindi si trasferisce ben presto nel complesso di appartamenti Holy Park, che si trovano in West Mayfield Road, ad Arlington, e inizia a fare ben due lavori per poter pagare le tasse scolastiche. All'inizio la cosa pare anche funzionare, però a quel tempo Missy si rende conto che non ha abbastanza soldi. Quindi prende la difficile decisione di non frequentare l'università per un semestre. Per lei non è affatto facile dover interrompere l'università. È una ragazza molto tenace e vuole studiare, vuole frequentare le lezioni, adora l'ambiente universitario. Ama andare all'università. Ma d'altro canto non se la sente proprio di chiamare sua madre per chiederle dei soldi. Missy vuole davvero cavarsela da sola. Quindi a questo punto Missy rimane ad Arlington per lavorare e guadagnare dei soldi col fine di pagare il college. E quindi inizia anche a rincasare molto tardi perché lavora sia di giorno che di sera. Però Missy ha un rapporto speciale con sua madre Patty. Le due si vogliono un bene dell'anima e Missy ogni sera, quando torna a casa da lavoro, è solita chiamare sua madre per dirle che è andato tutto bene. E per raccontarle un minimo la sua giornata. La notte in cui scoppia l'incendio, ossia il 7 aprile del 1994, Missy smette di parlare al telefono con sua madre verso mezzanotte. Si sta preparando per andare a dormire, quando sente qualcuno che bussa alla porta del suo appartamento. Tre ore dopo la polizia di Arlington riceve una chiamata da una vicina di casa di Missy. Quella donna dice all'autorità di aver sentito diversi rumori forti e un rumore di vetri infranti al piano superiore, ossia nell'appartamento di Missy. Pensa ci sia una rapina in corso, quindi la polizia va verso gli appartamenti Holly Park credendo di dover gestire una rapina. Ma succede qualcosa di inaspettato. Prima ancora che arrivino le autorità, passa un'ambulanza con a bordo dei paramedici che vedono chiaramente del fumo e del fuoco uscire da un appartamento. L'ambulanza quindi, come è giusto che sia, si ferma e i paramedici si rendono conto che fuori dall'edificio non c'è nessuno. E la cosa è strana, visto che c'è un incendio in corso. Si convincono quindi che stiano tutti dormendo senza rendersi conto del pericolo imminente. Forse non era suonato nessun allarme antincendio, la cosa è strana. Ma in ogni caso devono trovare un modo per far uscire la gente da quel complesso residenziale. I paramedici non sanno che diavolo fare, quindi iniziano a suonare il clacson dell'ambulanza in modo da svegliare tutti. Poi chiamano i vigili del fuoco. Quando i vigili del fuoco arrivano sul posto riescono a spegnere le fiamme entro un'ora e scoprono che l'incendio è partito proprio da casa di Missy. I pompieri entrano nell'edificio e controllano tutti gli appartamenti. Poi arrivano a quello di Missy e trovano all'interno della camera da letto, sdraiata sul letto, la povera Missy senza vita. I pompieri quindi a questo punto chiamano la polizia. Appena gli agenti arrivano sul posto iniziano a perlustrare gli appartamenti fino ad arrivare a quello di Missy. Quando il detective del dipartimento della polizia di Arlington, Tommy Lenore, entra nell'appartamento, devastato dal fuoco della ragazza, viene accolto da una scena del crimine che definisce assolutamente orribile. Il detective dice queste esatte parole. Ho visto brutte scene del crimine. E ho visto scene del crimine che coinvolgono persone che sono state bruciate negli incendi. Questo però è stato davvero, davvero estremo. Anche con il danno che ha provocato il fumo alla nostra visuale e il danno provocato dalle fiamme, quindi l'ustione, si poteva vedere che Missy era stata vittima di un assalto brutale. Per essere precisi, Missy viene ritrovata per l'appunto in camera da letto, sdraiata sul letto a faccia in su. È senza vestiti e le sue gambe penzolano dal letto. Ha un trauma alla testa e una ferita da punta al centro del petto. Inoltre ha delle ferite da taglio nella parte superiore del busto, ma non è finita qui. Ha anche dei lividi in faccia. I detective a questo punto temono che Missy abbia subito un'aggressione intima. Un primo rapporto dell'autopsia stabilisce che Missy era già morta prima che l'incendio iniziasse a divampare. L'hanno accoltellata attraversandole il cuore e danneggiandole il polmone sinistro, causando una massiccia emorragia interna. Purtroppo a Missy è stata fatta violenza in una maniera davvero brutale. La polizia ovviamente guardando la scena del crimine capisce che qualcuno ha piccato l'incendio per evitare di lasciare tracce. O comunque per cercare di lasciare meno tracce possibili. Però quando i colpevoli o i colpevoli uccidono Missy e appiccano il fuoco, commettono un errore. Infatti quando se ne vanno chiudono la porta dell'appartamento e questo non alimenta affatto le fiamme. Infatti l'incendio non brucia tutto l'appartamento di Missy. Fortunatamente i detektivi riescono a recuperare quella che credono sia l'arma del delitto, ossia un coltello da cucina che viene ritrovato nel lavandino. Riescono anche a salvare alcuni documenti personali di Missy. Questo significa che tutte le impronte digitali o il DNA che potevano trovare sul corpo della vittima sono stati distrutti. Missy però è stata vittima di una violenza, quindi riescono comunque a recuperare il DNA sotto forma di seme. I detektivi ovviamente avvisano la famiglia e iniziano a fare qualche domanda in giro. Scoprono ben presto tramite dei colleghi di lavoro di Missy che una settimana prima dell'omicidio aveva deciso di ospitare a casa sua un giovane senza tetto e suo collega per un paio di giorni a casa sua. Il ragazzo si chiama Charles. Charles stava cercando da giorni in realtà una sistemazione temporanea, ma nessuno aveva accettato di ospitarlo. Quindi Missy si era fatto avanti dicendogli che non ci sarebbe stato alcun problema. Se fosse rimasto qualche giorno a casa sua. La ragazza era molto ingenua. L'hanno ripetuto tutti ai detective. Missy peraltro era molto religiosa e amava fare del bene al prossimo. Tanto che aveva fatto una copia delle chiavi del suo appartamento per darle a Charles. In modo da lasciargli la libertà di uscire e rientrare quando gli andava. Come già vi ho detto Missy in questo periodo stava davvero lavorando tantissimo. Col fine di mettere dei soldi da parte e teneva questo denaro in un barattolo di vetro in casa. Era riuscita a mettere da parte circa mille dollari e una sera quando era rientrata a casa aveva trovato il barattolo di vetro vuoto mentre il suo ospite era svanito nel nulla. Peccato che Charles non fosse così intelligente perché qualche giorno dopo era tornato a bussare all'appartamento di Missy. E la ragazza a quel punto trovandosero davanti lo aveva affrontato. Missy gli aveva detto che sapeva benissimo che era stato lui a prenderle i soldi. Charles aveva provato a difendersi ma Missy lo aveva calciato di casa e poi era andata a sporgere denuncia alla polizia. Ed è a quel punto che quel Charles era sparito sul serio. La polizia ora che la povera Missy non c'è più lo cerca anche ma non lo trova. A questo punto le autorità cominciano ad esaminare le carte che hanno trovato nell'appartamento di Missy. Tra queste carte gli investigatori trovano diverse lettere personali di un uomo di nome Ivan. Il contenuto di quelle lettere suggerisce che tra i due ci fosse una relazione molto stretta. Missy era una ragazza religiosa. Era molto sicura della sua fede e questo includeva la decisione di aspettare fino al matrimonio prima di avere un rapporto intimo. A quanto pare almeno inizialmente Ivan era d'accordo con lei. Voleva proprio aspettare i suoi tempi. Col tempo però i due avevano iniziato ad accarezzarsi, a baciarsi, ad abbracciarsi e a fare tutto ciò che fa una coppia di innamorati insomma. Missy però interrompeva sempre tutto sul più bello come dice Ivan. Le lettere infatti dimostrano che tra la coppia iniziava ad esserci una certa tensione. Insomma la relazione era un po' tumultuosa. I detective, vista la scena del crimine, puntano immediatamente l'attenzione su Ivan. E peraltro quando la polizia fa dei controlli su di lui scopre chi ha dei precedenti come mole... A questo punto lo chiamano in centrale per interrogarlo. Ivan quindi dice ai detective che era a conoscenza della decisione di Missy di aspettare fino al matrimonio. Ma entrambi si erano spinti oltre e Missy si era sentita a disagio. Ivan dice che teneva tantissimo a Missy. Stava cercando in tutti i modi di riappacificarsi con lei per tornarci insieme. Cioè di certo non l'aveva uccisa lui insomma. I detective a questo punto chiedono a Ivan dove fosse la notte dell'omicidio. E Ivan fornisce un alibi che non convince molto il detective. Dice infatti che era a casa sua da solo e che dormiva. La polizia dubita di Ivan. Pensano che il ragazzo avesse un movente plausibile per far fuori Missy. Ma soprattutto aveva l'opportunità di bussare a casa di Missy e di farsi aprire senza chissà quali problemi. Nonostante ciò la polizia non ha nessun motivo per trattenere Ivan. Quindi gli chiedono un campione di DNA da confrontare con quello trovato sulla scena del crimine. O meglio sulla vittima. Ivan non ha alcun problema e collabora tranquillamente. Ora siamo nel 1994. Questo vuol dire che i campioni di DNA vengono analizzati in tempi abbastanza lunghi. La polizia in questo momento ha il DNA di Ivan e ha il DNA che ha trovato sulla scena del crimine sulla vittima. Ma non hanno ancora i risultati di nessuno degli esami. Quindi l'unica cosa che possono fare gli investigatori in attesa dei risultati degli esami è continuare a indagare. Non possono certo fermarsi per otto settimane. Insomma devono continuare a investigare. A questo punto i detective iniziano a sentire con più attenzione tutti gli amici e i colleghi di Missy. E alla fine pongono a tutti la stessa domanda. Ossia che tu sappia c'era qualcuno che voleva fare del male a Missy? Tutti, nessuno escluso, esclamano un nome. Ossia Jeff Smith. Missy aveva lavorato sia con Ivan, ossia quello che era il suo fidanzato, che con Jeff. Quest'ultimo è un ragazzo che se la tira tantissimo. È davvero pieno di sé. E sostiene che ogni ragazza che incontra viene travolta dal suo charme. Jeff ci aveva provato anche con Missy. Che però l'aveva rifiutato. Non era proprio stata travolta dal suo charme, Missy. E indovinate? A Jeff non piaceva assolutamente ricevere un rifiuto. Poco prima di essere uccisa, peraltro, Missy aveva denunciato Jeff al loro manager per furto. L'aveva beccato a rubare dei soldi dalla cassa. Quindi poco dopo Jeff era stato giustamente licenziato. Jeff ovviamente era sicuro di essere stato licenziato perché Missy aveva fatto la spia. Così dice lui, eh? Io credo che Missy abbia semplicemente comunicato al suo capo un'ingiustizia accaduta sotto ai suoi occhi. Poteva essere Jeff, poteva essere qualsiasi altra persona. Missy avrebbe fatto la scelta giusta anche se si fosse trattato di una collega con cui usciva tutte le sere dopo il lavoro. Non aveva denunciato Jeff perché gli stava antipatico o perché voleva fare la spia. Questa, peraltro, era una caratteristica che, a mio parere, non apparteneva al carattere di Missy. Perché era una ragazza matura e giudiziosa nonostante i suoi 19 anni. In ogni caso, poco tempo dopo, Jeff si era di nuovo presentato sul luogo di lavoro, da cui era stato licenziato per minacciare Missy davanti a tutti. Le aveva urlato in faccia che le avrebbe rovinato la vita, che l'avrebbe uccisa. Quando gli investigatori interrogano Jeff e gli chiedono se effettivamente ha avuto questo scontro con Missy, Jeff nega. Dice che non ha detto nulla a Missy e, soprattutto, lui con la sua morte non c'entra proprio niente. Dopo qualche giorno, attenzione, attenzione, la polizia riceve la visita di una donna di nome Kristen Wallen. E chi è questa Kristen? Ebbene, Kristen è la ragazza di Jeff. Dice agli investigatori che lo sta lasciando, prima di tutto perché ha un carattere davvero instabile. Ma soprattutto dice che era arrivata ad aver paura di lui perché era convinta avesse ucciso Missy. Kirsten dice immediatamente agli investigatori che la notte dell'omicidio di Missy, Jeff non era a casa. Ed era rientrato solamente la mattina successiva. Kristen sa che Jeff era furioso con Missy per averlo fatto licenziare e la polizia a questo punto convoca nuovamente in centrale Jeff per fargli ulteriori domande. Il detective a capo delle indagini non crede ad una sola parola che esce dalla bocca di Jeff. Durante l'interrogatorio il ragazzo continua a sorridere, fa battute, insomma non sembra stia prendendo seriamente la situazione. Inoltre il detective sostiene che Jeff ha sempre una storia pronta per tutto. E infatti Jeff racconta agli investigatori che in realtà Missy era ossessionata da lui. Voleva proprio stare con lui, voleva fidanzarsi con lui. Jeff però l'aveva rifiutata. E siccome Missy era ossessionata da lui, la sua ragazza lo aveva lasciato. In pratica Jeff sostiene che la sua storia d'amore con Kristen sia terminata perché Missy tempo prima si era messa in mezzo. Missy che ora non è più in vita. Non ha alcun senso questa storia! Quello che Jeff non sa però è che la polizia ha già parlato con Kristen e sanno benissimo che tutto ciò che gli sta raccontando Jeff sono solo e soltanto sonore balle. Quando gli chiedono cosa stesse facendo la notte dell'omicidio, Jeff risponde che è stato a casa tutta la notte con Kristen. E di nuovo i detective sanno che Jeff sta mentendo. Quindi semplicemente lo affrontano, gli dicono la verità, gli dicono che secondo loro lui sta mentendo. In tutta risposta Jeff che fa? Gli ride in faccia, ma fornisce volontariamente un suo campione di DNA. Jeff ha sicuramente mentito alle autorità. La notte in cui Missy è morta lui non era a casa. Ma io sono propensa a pensare che probabilmente stesse tradendo Kristen con un'altra donna. D'altro canto era solito fare in questo modo Jeff. Anche se aveva già una fidanzata a casa, non si faceva problemi a stringere altre relazioni con altre donne o fare cose con altre donne. Il DNA trovato sul corpo della vittima deve ancora essere analizzato. Ma il laboratorio riesce ad ottenere un gruppo sanguigno. La polizia quindi può usare questo gruppo sanguigno per escludere uno o più sospettati. Così scoprono che né il sangue di Ivan né il sangue di Jeff corrispondono al gruppo sanguigno trovato sulla scena del crimine. Intanto non hanno ancora individuato Charles, il collega senza tetto che Missy aveva ospitato nel suo appartamento. A distanza di un mese dall'omicidio, Patty, la madre di Missy, chiama la polizia perché si ricorda che Missy le aveva detto qualcosa che ora, col seno di poi, giudica importante proprio pochi giorni prima della sua morte. Vi ricordo che Missy e sua madre avevano un rapporto stupendo, si sentivano tutte le sere, erano molto unite. Di conseguenza Patty viene a sapere tutto quello che fa Missy. Non le tiene nascosto proprio niente. Le racconta cosa sia successo durante la giornata, se ha incontrato qualcuno che l'ha infastidita, cosa ha mangiato. Così Patty racconta la polizia di questo altro uomo di nome Luis Arroyo, di 32 anni, che viveva nello stesso complesso di appartamenti in cui viveva Missy, con la sua fidanzata incinta e il loro bambino piccolo. Luis e Missy si conoscevano non solo in qualità di vicini di casa, ma anche in qualità di colleghi. Lavoravano infatti insieme da Pizza Hut in South Cooper Street. E tra l'altro Missy aveva anche fatto da babysitter il figlio di Luis e della sua ragazza, in modo da guadagnare dei soldi extra. Quindi due giorni prima del suo omicidio Missy aveva chiamato sua madre, come era solita fare tutte le sere, e le aveva raccontato che Luis Arroyo si era presentato al suo appartamento. Avevano parlato un po', ma poi la chiacchierata si era trasformata in una lotta con i cuscini. È esattamente questa informazione che fa storcere il naso a Patty la madre. Insomma, dice il detective che Luis era un uomo adulto di 32 anni. E risulta strano che si fosse messo a fare cuscinate con una 19enne nell'appartamento di quest'ultima. I detective a questo punto fanno un controllino su Luis e scoprono che è un veterano dell'esercito. Fa il cuoco da Pizza Hut da oltre un anno, dove lavorava anche Missy, ed è considerato un impiegato modello. I colleghi sostengono che in realtà Missy e Luis sembravano amici. A volte uscivano tutti insieme per andare a bere o a mangiare. Non avevano mai litigato a differenza di Missy e Jeff. Insomma, i loro rapporti sembravano normali. La polizia però alza le antennine quando uno dei dipendenti dice che un giorno stavano parlando tutti insieme di quello che era accaduto a Missy. E Luis aveva pronunciato esattamente queste parole. Spero che catturino quel figlio di buona donna che ha fatto violenza e ucciso Missy. Poi continua dicendo. Ma temo che non lo prenderanno mai. Tutto è andato distrutto dalle fiamme, visto che hanno appiccato un incendio nel suo appartamento. Ebbene, la polizia non aveva reso assolutamente pubblica la violenza intima. Quindi hanno un buon motivo per chiamare e interrogare Luis. Durante l'interrogatorio Luis si dimostra rilassato e rispettoso. E rimane a suo agio fino a quando un detective gli chiede se possono prelevare un campione del suo DNA. In modo da poterlo escludere come sospettato. A questo punto il comportamento di Luis cambia radicalmente. Chiede perché vogliono il suo DNA e sbianca di colpo. E perché Luis sbianca? Perché Luis pensa all'appartamento andato in fiamme. E quindi crede che non ci siano prove per confrontare il suo DNA con quello di qualsiasi altra persona. Il detective a questo punto le informa che no, l'appartamento non è andato completamente in fiamme. Qualcosa si è salvato, ma soprattutto sulla scena del crimine, o meglio sul corpo della vittima, hanno trovato un DNA. Luis a questo punto cambia nuovamente atteggiamento. Dice improvvisamente che se ne deve andare perché deve accompagnare suo figlio dal dottore. Ma promette che il giorno successivo sarebbe tornato per fornire un campione di DNA. La polizia non ha niente di concreto contro Luis. È un sospettato certo, ma i detective non possono trattenerlo, quindi gli permettono di andarsene. Luis il giorno dopo però mica si fa vivo. La polizia lo contatta. Luis si scusa e promette che sarebbe passato il giorno ancora successivo a rilasciare il suo campione di DNA. Ovviamente le ore passano e neanche il giorno successivo Luis si fa vivo. Così la polizia va sul luogo di lavoro per cercarlo, ossia da Pizza Hut. Ed è a questo punto che la polizia scopre che la ragazza incinta di Luis, che di nome fa Jeanette, aveva chiamato Pizza Hut per dire che Luis doveva partire, doveva andare via per un po'. Quindi non sarebbe andato a lavoro per un po' di tempo. Oltretutto Jeanette al momento non è più la fidanzata di Luis, ma è diventata sua moglie. E infatti Luis al posto di andare in centrale a rilasciare un campione del suo DNA, si è sposato in gran segreto e in tutta fretta con Jeanette. I detective quindi cosa fanno? Fanno visita a Jeanette, la moglie di Luis. Luis è incinta di loro secondo figlio e sostiene che lei e Luis si stanno insieme da due anni. Si sono trasferiti da poco negli appartamenti Holybrook, appena sei mesi prima. E Jeanette si ricorda di Missy perché la ragazza aveva lavorato per lei come babysitter. Jeanette descrive Missy come una ragazza molto dolce, molto paziente, amante dei bambini. Inoltre ricorda vividamente la notte del suo omicidio. Secondo Jeanette Luis aveva smesso di lavorare verso le 10, 10 e mezza di sera. Poi l'aveva chiamata dicendole che avrebbe bevuto qualcosa con i colleghi prima di tornare a casa. Sempre stando a ciò che dice Jeanette, Luis era tornato a casa verso mezzanotte. Si era fatto una doccia e poi è uscito di nuovo per andare a correre. Era rincasato nuovamente verso le 2 del mattino. Quando era rientrato, Jeanette sottolinea che Luis stava tossendo. Puzzava di fumo e aveva della fuligine sul naso. Io quando ho letto questa cosa mi sono chiesta, ma chi torna a casa da lavoro a mezzanotte per farsi la doccia? Per poi uscire col fine di farsi una corsetta? E poi tornare a casa altre due ore dopo per farsi un'ennesima doccia per di più sporco di fuligine? In ogni caso Luis racconta a Jeanette che stava correndo e aveva sentito un urlo provenire da uno degli appartamenti. Ovviamente quell'appartamento era l'appartamento di Missy. Luis quindi dice a Jeanette che aveva smesso di correre e si era precipitato verso l'appartamento di Missy. Aveva trovato la porta d'entrata aperta, quindi era entrato dentro casa e aveva trovato Missy senza vita sul letto. L'incendio, dice Luis a Jeanette, era già scoppiato, ma lui aveva provato comunque a salvare Missy facendole la respirazione bocca a bocca. Però le fiamme e il fumo si stavano ormai diffondendo, quindi se ne era andato così come era entrato. Tornando a casa sua e andando a dormire con la sua fidanzata Jeanette. Jeanette dice che Luis non aveva chiamato la polizia perché a Luis la polizia non piaceva. Il detective a questo punto guardano Jeanette abbastanza perplessi e le chiedono perché in quel momento non abbia chiamato lei la polizia. Le chiedono come abbia fatto a fidarsi delle parole di Luis quando era ovvio che le stesse raccontando delle balle gigantesche. Ma a quanto pare Jeanette si era realmente fidata di ciò che le aveva detto Luis. Quindi entrambi erano semplicemente andati a letto. Qui nasce un dubbio sia nei detective che in me. Jeanette sapeva più di quanto diceva. A questo punto la polizia ha necessariamente bisogno di un mandato di perquisizione per andare a casa di Luis e Jeanette col fine di cercare qualche indizio. Quello che però in realtà i detective vogliono ottenere da quella perquisizione è il sangue di Luis. Se riescono a trovare nell'appartamento anche solo una goccia di sangue possono compararla con il gruppo sanguigno che hanno identificato sul corpo della vittima. Vi sottolineo che nel frattempo Luis se n'è davvero andato. Ha lasciato la città esattamente come ha detto Jeanette. Fatto sta che come era ovvio che sia a mio avviso gli investigatori non trovano nessuna traccia di sangue. Quindi pensano di prelevare un campione di sangue da suo figlio. Ovviamente prelevare un campione di sangue dal figlio del sospettato non garantisce affatto che ci sia una corrispondenza. È possibile che il figlio di Luis abbia un altro gruppo sanguigno rispetto a quello di suo padre. Ma incredibilmente quel sangue corrisponde al gruppo sanguigno trovato sul corpo della vittima. In una seconda perquisizione fortunatamente i detective trovano le targhette militari di Luis su cui c'è scritto il suo gruppo sanguigno che finisce per corrispondere a quello dell'aggressore di Missy. Con queste prove i detective possono emettere un mandato di arresto per Luis che però non hanno ancora trovato. I detective a questo punto tornano ancora da Jeanette e sono convinti che la donna sappia di più di quanto dica. Specialmente riguarda dove si trovi Luis. Jeanette ovviamente dice inizialmente agli investigatori che non ha la minima idea di dove si trovi Luis. Ma a questo punto gli investigatori si giocano il tutto e per tutto. Dicono a Jeanette la verità. A Missy è stata fatta violenza. Jeanette a questo punto rimane sterrefatta e sconvolta da questa notizia. Tanto che fornisce agli investigatori l'indirizzo del luogo in cui possono trovare Luis. Giustamente Jeanette no perché se ha commesso un omicidio bisogna coprirlo. Ma se oltre all'omicidio ha commesso anche la violenza intima, indirizzo, geolocalizzazione, guardate vi faccio anche vedere da Google Maps dove si trova. Si trova qui, 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 proprio qui. La macchina di Luis viene ritrovata esattamente 24 ore dopo aver emesso il suo mandato d'arresto a San Antonio in Texas. È stata data alle fiamme, quindi la polizia immagina che Luis stia cercando di coprire le sue tracce. Ma scoprono che la madre di Luis abita a San Antonio. Quindi Luis si stava nascondendo a casa di sua madre. Quando i detective riescono a trovare Luis, la polizia di San Antonio lo prende in custodia e i detective di Arlington vanno a San Antonio per interrogarlo. A questo punto Luis non è più tranquillo e rilassato, anzi, per niente proprio. Durante l'interrogatorio si raggomitola per terra, si inghiozza, piange e poi di colpo cambia versione. Luis sostiene che in effetti lui e Missy avevano avuto un rapporto. È vero? Ma consensuale. E tra l'altro era stato molto gentile con lei perché sapeva che era la sua prima volta. I detective di Arlington però non sono scemi, hanno avuto modo di vedere lo stato del corpo di Missy. Per di più Missy aveva un fidanzato che se ricordate era stato preso in considerazione all'inizio dell'indagine e poi era stato scagionato. Se Missy non si era concesso al suo fidanzato che diceva di amare, perché avrebbe dovuto concedersi a Luis? Un uomo con un figlio e con una compagna incinta? Luis inoltre afferma anche un'altra cosa. Dice che non ricorda di averla uccisa. Poi si sbilancia un pochino di più e sostiene che potrebbe averla accoltellata lui, ma non ammette di aver appiccato il fuoco che poi ha dato vita a un incendio. Luis in questo caso sta provando a fare il furbetto. Perché questa ha tutta l'aria di essere una confessione, ma in realtà non è proprio così. O meglio, Luis non sta dicendo niente di particolare. In pratica sostiene di aver avuto un rapporto con Missy ma consensuale. Quindi tenta di dare una spiegazione logica alla presenza del suo DNA sul corpo della vittima. Poi sostiene che avrebbe potuto ucciderla, ma che non ricorda di averlo fatto. E conclude dicendo che sicuramente non ha appiccato lui l'incendio. Il fatto di non ammettere di aver appiccato lui l'incendio è una mossa sì, sicuramente goffa, ma necessaria. Considerando che Missy non abitava in una villetta, ma in un complesso di appartamenti. Questo vuol dire che chi ha appiccato quel fuoco ha messo in pericolo la vita di diverse persone, comprese diverse famiglie. Forse Luis preferirebbe essere accusato solo di omicidio, ma non di un omicidio e di vari tentati omicidi. Perché è quello che potrebbe accadere se ammettesse di aver appiccato quell'incendio. A questo punto finalmente arriva il risultato del DNA trovato sul corpo della vittima. E per avere una sicurezza maggiore viene anche prelevato il DNA di Luis, che nel frattempo aspetta il risultato bello tranquillo in carcere. E in effetti c'è la corrispondenza. Luis viene accusato di omicidio capitale e condannato all'ergastolo. La polizia crede che Luis abbia sviluppato un'attrazione morbosa e ossessiva per Missy. In realtà si chiedono se non avesse sviluppato un'attrazione verso di lei a lavoro. E quindi di aver scelto di diventare sua vicina. Visto che lavorava da Pizza Hut da più di un anno e si era trasferito al complesso di appartamenti Holly Park da appena sei mesi. Questo vuol dire che aveva fatto in tempo a conoscere Missy prima di trasferirsi vicino al suo appartamento. Di certo era andato da lei la notte del suo omicidio per fare quattro chiacchiere. E peraltro si era già presentato a casa di Missy, avevano già fatto quattro chiacchiere qualche giorno prima. Avevano anche fatto a cuscinate. E questa cosa accade anche la notte del suo omicidio. Infatti Luis cosa dice? Dice che avevano iniziato a fare a cuscinate e Luis a questo punto aveva pensato che la lotta con i cuscini fosse un modo di Missy per provarci con lui. Quando però ci aveva effettivamente provato, Missy l'aveva malamente rifiutato. C'era rimasta proprio male. Lui dunque si era arrabbiato, l'aveva aggredita, l'aveva uccisa e poi aveva dato fuoco all'appartamento per coprire le sue tracce. Era tornato a casa convinto di aver fatto un buon lavoro. Aveva inventato una storia da raccontare alla sua compagna Jeanette. E l'aveva convinta di andare a letto mentre altre famiglie e altri inquilini, a causa di quell'incendio, stavano rischiando la vita. Detto questo ragazzi e ragazze, io ho finito di parlare in questo video. Spero vivamente che questo video possa essere stato di vostro interesse. Fatemi sapere quello che volete qui sotto nei commenti. Conoscevate questo caso? Che cosa ne pensate? Io nel frattempo vi mando un bacione e noi ci vediamo prestissimo al prossimo video. Mi raccomando, fate i bravi, continuate a mangiare le verdure che continuano a far bene, ma soprattutto prendetevi cura di voi e fate ciò che vi rende felici. Basta che non fate nulla di criminale. Ciao a tutti! Ciao a tutti!